Kiki Pepe, era questo il nome d'arte di Cristian Pedretti, aveva 39 anni quando all'agosto del 2010 i parenti denunciarono la sua scomparsa, a Chiavenna e nei dintorni di lui nessuna traccia. Un anno dopo, sempre ad agosto, nella zona di Uschione, ritrovamento in un dirupo. Del suo caso si occupò anche la trasmissione Chi l'ha visto. Sono trascorsi dieci anni da quei terribili giorni e nella sua città, Chiavenna, Kiki Pepe verrà ricordato con un evento culturale fortemente evoluto dal fratello Massimiliano, la mostra che verrà inaugurata giovedì 2 dicembre a Palazzo Pretorio. Io sono fratello di Cristian Pedretti e sto organizzando una mostra evento il ricordo dell'uomo Cristian Pedretti che avverrà a Chiavenna dal 2 al 13 dicembre. Il tuo fratello ha avuto un percorso artistico che è partito da Bologna, giusto? Sì, lui ha 16 anni e ha deciso di andarsene da Chiavenna e si è trasferito a Bologna e poi negli anni ha girato un po' tutto il mondo, da New York a Berlino, da Parigi a Londra per ampliare il suo bagaglio culturale. E questa mostra li percorre il suo cammino artistico? Sì, praticamente questa mostra vuole far vedere chi era l'uomo Cristian Pedretti, nel senso dai quadri ai suoi diari di bordo ho conosciuto un artista, Pamela Napolitano, che praticamente mi sta dando una grossa mano allestire questa mostra e penso che sia un evento che tutti dovrebbero partecipare, in ricordo di mio fratello. La mostra, dedicata a Chichi Pepe, si potrà visitare fino al 13 dicembre, dalle 10 alle 12 e 30, dalle 15 alle 18 e 30, da venerdì a domenica apertura estesa fino alle 19. 9.